Senti, ma... tu ci vedi anche qui dentro? Ti hai separato, vero? Dilo, mi devi 2.500 euro. Rubbo che ho dato, 245 euro e siamo pari. Cosa vuole? 1.400 euro! Lettino, via! Rosio! Lasciami la gamba! Rosio, mi sono approfittato perché siamo donne! Questi! Lei è Norma Pecche, la madre di Mirko, il bandito. Prima di morire mi ha detto che in questa casa c'è un tesoro nascosto in una sedia. In una sedia? L'hanno trovato in salotto otto sedie e un tavolo e non sono riusciti a vendere tutte insieme. E lei per caso ha comprato una sedia con dietro un elefante? Non è che hai mai visto questa sedia tu? Voglio vedere cosa c'è dentro. Dov'è la sedia? Vorremmo comprare la sedia. Pagare? Quanto pagare? 50 euro. Via! Eh? 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 100. Poi niente. 300? Raggi, ride! Cazzo ride! Come? No call.